L'entramente presi ad accarezzarla con un certo artire. Lei mi assecondava, sentivo che le piaceva e si abbandonava alle mie carezze ricambiandole con la stessa audacia. Delicatamente impilò le mani sotto la mia maglia e la sfilò lasciando la cadena aperta. A quel punto mi parve di sentire la sua voce, lieve come quella di una bambina, sussurrava il mio nome con incredibile dolcezza. Mentre accoglieva il mio corpo i miei baci che sprigionavano un crescendo di calore e desiderio. Grazie. Buonasera, qui siamo alla Cascina Marchese in Corso Vercelli a Torino e presentiamo il libro di Roberta Mazzarello, la sua prima opera. Un'opera che si titola In punta di piedi e chiediamo ovviamente a Roberta perché è in punta di piedi. Brevemente l'ho spiegato proprio nelle prime pagine, nella quarta di copertina, perché ho voluto un po' dare un'immagine a come le persone si aggirano nella nostra vita, che possono avere un valore importante nel quotidiano, piuttosto che anche persone che si incontrano di sfuggita, ma che comunque entrano ed escono dalla nostra vita in punta di piedi. A volte, neppure che noi ce ne accorgiamo, creano qualcosa di importante, ci lasciano, ci tolgono qualcosa di importante e in questo modo costruiscono la nostra storia in punta di piedi. Il suo personaggio, la voce narrante, è un uomo e quindi chiedo adesso a lei perché ha fatto questa scelta? Forse un po' per curiosità, perché a me piace molto osservare, osservare le persone, osservare in particolare la diversità e penso che tra uomo e donna, anche se prima di tutto siamo persone, ma comunque ci siano delle peculiarità che ci differenziano e quindi osservando proprio anche dalla banale gestualità al modo di vivere le emozioni, al modo di vivere dell'uomo che talvolta per me può essere difficile da comprendere, poi c'è stato e sarà, perché comunque è un universo completamente diverso dal mio mi ha incuriosito, in qualche modo è stata un po' quasi una sfida, voler provare a creare un personaggio maschile e parlare in prima persona, proprio come un uomo e un uomo, il protagonista si chiama Dario, che racconta una manciata di giorni della sua vita che in qualche modo l'hanno segnata, l'hanno cambiata con un'ottica vista, da un punto di vista maschile, che ho voluto tentare di dare io nel mio essere donno un tentativo, una sfida Io ho scritto sempre, ho scritto sempre molto fin da bambina, un po' perché non so se è reale o meno o è un mio timore, ma ho sempre avuto paura di dimenticare, ho sempre avuto la convinzione di aver poca memoria e quindi ho iniziato scrivendo proprio realmente ciò che mi accadeva soprattutto cercare di fermare il tempo sugli eventi della mia vita c'erano magari cose, momenti molto belli o momenti molto brutti che volevo ricordare e siccome a me piace molto, come dicevo, osservare magari nel momento in cui accadevano queste cose io osservavo i movimenti, la gestualità di chi avevo di fronte il colore delle lenti degli occhiali, piuttosto che qualsiasi minimo dettaglio che avevo paura nel tempo non potesse sfuggire e quindi lo scrivevo, scrivevo pagine e pagine, raccontavo e poi tra un evento e l'altro, siccome mi piaceva scrivere, inventavo anche, inventavo storie e tutto questo è diventato circa le 360 pagine di Punta di Piedi Per tutte le persone depresse e disperate che hanno commesso o subito l'irreparabile ti posso assicurare non uno che volesse incontrarla la banalità di lito è io non credo agli psicologi come se si parlasse di UFO che vuoi dire? voglio dire che sono proprio quelli che ne hanno più bisogno i primi a sfuggire fa male vedere lo schifo che abbiamo dei inovanti un male cane e dunque la paura come un bambino scappa se ne è il gruppo o il buio ma non sai, non sai quanto può essere meglio si trova in un'altra 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 in un'altra